La lezione di Fontana è una lezione assolutamente di libertà inventiva e di genialità che ha sollecitato questa libertà. Questa carta appartiene a una categoria di opere tipologicamente definita anche sulla base di quello che diceva Lucio stesso, definita nel catalogo generale carte. Ha una particolarità nel senso di essere una grande carta fissata su tela per una conservazione migliore, mentre in altre, quelle che poi hanno caratterizzato questo gruppo di opere, Fontana utilizzava delle carte telate industrialmente. Questo forse può spiegare anche una certa maggiore d'utilità di questo tipo di opera dipinto su carta, come del resto qualche di un altro del gruppo, che è un gruppo piuttosto raccolto rispetto ad altri cicli di Fontana, dai buchi ai tagli che sono estesissimi. Diciamo che in questa corsività del segno, che è segno sulla carta, ma in qualche modo anche la incide, cominciano le prime idee del tagliare, cioè della possibilità di creare uno spazio oltre, che già aveva intuito e realizzato con i buchi, ma di svilupparla in una maniera anche più clamorosa e più unica, perché poi i tagli saranno anche un solo taglio. Ecco, questo passaggio matura nella vicenda delle carte e direi che questa dedicata a Brucke del 59 è particolarmente vivace dal punto di vista semico, e questo ne sottolinea la qualità espressiva proprio perché è una specie di piccolo laboratorio sperimentale della motilità possibile del segno di Fontana.